Ciao, sono prof di montagna e oggi vi spiego come funziona l'acceleratore di particelle del CERN. Dato che voglio semplificare il più possibile la spiegazione, perché per capire tutto tutto servirebbero ore, decine di ore di lezione, allora facciamo anche una camminata semplice. Facciamo una salitella di poco più di 200 metri di dislivello per andare sul Moncuni, che si trova sopra ai laghi di Avigliana, grande vista. Il Moncuni è in pratica un accumulo di materiale spinto qua in l'era graciale dagli acciai che scendevano dalle valli, dalle Alpi, quindi è un cumulo di sabbia e sassi, per quello è una montagna così dolce e collinare diciamo. Ma veniamo al CERN. Il CERN è un grandissimo laboratorio, è un posto dove si fa ricerca scientifica e ci si occupa di fisica delle particelle. È in pratica costituito da una parte in superficie e una parte molto più importante sotterranea, che si trova vicino a Ginevra, in Svizzera. È stato creato lì perché durante la Seconda Guerra Mondiale si è cercato di fermare la fuga dei cervelli verso principalmente gli Stati Uniti, creando appunto un polo di aggregazione dei scienziati europei e ovviamente la Svizzera andava bene dal punto di vista geopolitico in quanto neutrale, ma poi è stata scelta quella zona anche perché è a bassissima attività sismica. In superficie in pratica c'è una città dove vivono i ricercatori e ci vivono migliaia di ricercatori da tutta Europa. Ci sono anche alcuni laboratori, alcuni piccoli laboratori in cui si svolgono esperimenti, ma il grosso del CERN, cioè gli acceleratori di particelle, si trovano nel sottosuolo. Cosa succede allora nei sotterranei del CERN? Ci sono gli acceleratori di particelle. L'obiettivo di questi esperimenti è far scontrare fra di loro dei protoni ad altissima velocità. Perché far scontrare questi protoni uno contro l'altro? Scontrandosi a questa enorme velocità e possedendo quindi tantissima energia, si crea, in questo urto, si crea qualcosa di effimero e che dura veramente poco, che è in pratica la presenza di alcune particelle che normalmente in natura non possono essere osservate. Sono particelle che decadono quasi subito. Perché si crea questa massa? Non si crea da nulla questa massa, perché esiste la famosa equazione di equivalenza tra massa e energia, che ci dice che quando qualcosa possede moltissima energia, questa energia può essere trasformata in massa. Naturalmente la massa è pochissima, però noi stiamo parlando di microparticelle. Ci basta poca massa per poter magari creare particelle mai viste prima. Come vengono fatti scontrare questi protoni? Come vengono accelerati prima di tutto? Dunque, i protoni sono delle cariche elettriche positive, quindi subiscono gli effetti dei campi elettrici e dei campi magnetici. Gli acceleratori di particelle in pratica funzionano con questi due campi, però ripassando un po' di fisica, i campi elettrici sono in grado di esercitare una forza su una carica positiva che è direzionata esattamente come il campo. Quindi ponendo il protone dentro un campo elettrico questo verrà spinto proprio in quella direzione. I campi magnetici invece riescono ad agire sulle particelle in movimento grazie alla forza di Lorenz, che però agisce perpendicolarmente. Quindi in pratica che cosa riesce a fare un campo magnetico? Riesce a far curvare una particella. Ok, chiariti questi due concetti di base, veniamo proprio all'accelerazione vera e propria. Innanzitutto i protoni da dove vengono presi? Viene preso dell'idrogeno e viene privato l'atomo di idrogeno dal proprio elettrone. Rimane quindi solo un nucleo che è quindi semplicemente un protone. Quindi ci si trova dentro una, diciamo, una camera molto piccola un certo gruppo di protoni. Questo gruppo viene inizialmente accelerato con un campo elettrico ed entra nel primo acceleratore. Ci sono diversi acceleratori, il più grande dei quali è LHC, che è un anello che ha una circonferenza di circa 27 km. Prima di tutto questo è il motivo per cui è sotterraneo. E secondo, perché è così grande questo anello LHC? Perché quando i protoni raggiungeranno quell'acceleratore di particelle avranno già una velocità tale per cui non si riuscirà a fargli fare una curva molto stretta. È come una pista, in pratica, come una pista di Formula 1. Ci sono delle curve che è possibile affrontare a certe velocità, curve invece con un raggio più grande che è possibile affrontare più velocemente. Ecco, più i protoni sono veloci e più riusciamo a farli muovere in un raggio più grande però. Infatti si sta già progettando un anello ancora più grande. Beh, questo è LHC, in pratica, è il luogo dove i protoni vengono portati alla loro massima velocità, dopo essere stati accelerati preventivamente da altri acceleratori più piccoli. Però il funzionamento di questi acceleratori è principalmente lo stesso. All'interno di questo anello, in pratica, si alternano principalmente due fenomeni. Il campo elettrico continua a spingere i protoni, mentre il campo magnetico li costringe a curvare. Noi potremmo accelerarli senza farli curvare, ma ce li perderemmo subito. Non riusciamo a fargli fare un'accelerazione molto lunga, perché appena le acceleriamo questi se ne vanno e non le abbiamo più. Invece, riuscendo a farli girare sempre attorno allo stesso anello, a ogni passaggio vengono accelerati sempre un pochino di più. Gli viene fornita questa energia che aumenta la velocità sempre di meno, perché purtroppo la velocità della luce è un asintoto e non potrà essere raggiunto. Ma comunque ogni minimo aumento vuol dire un grande aumento di energia cinetica posseduta dal protone. Quindi, secondo questi due fenomeni, durante i loro giri i protoni, perché sono un gruppo di protoni, un fascio di protoni, vengono continuamente spinti da due forze. Una spinta in avanti che continua ad accelerarli e una spinta di lato che gli fa fare la curva. Quindi sono spintoni e schiaffoni di continuo su questi poveri protoni. C'è un terzo effetto che si deve operare su questo fascio di protoni, perché tra loro, essendo tutti positivi, si respingono, per cui questo gruppetto di protoni tenderà ad allargarsi. Allora, visto che noi vogliamo che i protoni poi si scontrino con probabilità alta, noi vogliamo un fascio di protoni abbastanza compatto, abbastanza denso. Quindi ogni tanto durante il giro c'è anche un apparecchio magnetico che è in grado di comprimere un po' questo fascio, li costringe, li stringe un pochino in una superficie un pochino più piccola. Quindi abbiamo questo fascio di protoni che sta girando velocissimo. Nel frattempo c'è un altro fascio di protoni che sta girando velocissimo, ma nell'altro senso. Vengono tenuti separati su due fasci di protoni finché non vogliamo cominciare a farli scontrare. Allora ci sono in LHC quattro punti in cui si cerca di far scontrare questi fasci di protoni, che corrispondono a quattro esperimenti in pratica. Sono quattro enormi laboratori, ognuno dei quali ha una finalità diversa di ricerca. Quando si vuole far scontrare questi protoni, allora LHC devia i due fasci in modo che si intersechino e con grande probabilità qualche protone si scontrerà. Anzi, si scontreranno moltissimi protoni ogni secondo. Quando si scontrano questi protoni, in pratica si crea questa esplosione, questo fuoco d'artificio di particelle elementari che durano magari un istante, che però vengono rilevate dalle parecchieture che sono intorno al punto in cui è avvenuto lo scontro. Si genera una marea tale di dati ogni secondo che c'è bisogno di un sistema di calcolo incredibile, c'è una rete di computer connessi fra di loro, potentissimi, che immagazzinano tutti questi dati. È davvero difficile immaginare quante energie possiedono questi fasci di protoni, e allora normalmente si fa un paragone. È come se si scontrassero due freccia rossa alla massima velocità. È uno scontro incredibile che va gestito in una maniera abbastanza oculata, nel senso che è vero che non si tratta di nulla di particolarmente pericoloso, ma le energie coinvolte, pur essendo concentrate in particelle molto piccole, sono enormi. Gestire tutto il CERN costa uno sproposito naturalmente. Allora, una domanda che qualcuno magari fuori dal mondo della ricerca scientifica può farsi, e si fa ed è giusto che si faccia, è perché dobbiamo spendere tutti questi soldi per una cosa che in realtà sembra un giocattolo? Perché innanzitutto costa così tanto? Beh, soprattutto per il consumo enorme di energia che ha l'acceleratore di particelle mentre viene acceso. Pensate solo che ci vogliono dei sistemi di raffreddamento per creare una corrente altissima a causa della superconduttività dei materiali, che portano la temperatura a poco più di un grado sopra lo zero assoluto, il che già ciuccia un sacco di energia. In più, tutti i sistemi che creano campo magnetico, campo elettrico, sono veramente energivoli a manetta. In realtà, come spesso succede, la curiosità umana porta poi, pur magari non partendo da un fine nobile, porta comunque a dei risultati più che nobili. In particolare il CERN può avere quattro punti di vista positivi. Innanzitutto sicuramente la ricerca. Al CERN, in pratica, si sta cercando di scoprire come è fatto l'universo, come è fatta la nostra materia, come funzionano le particelle di cui siamo composti e come è nato l'universo. Poi c'è l'aspetto della tecnologia. Ci sono delle scoperte e delle innovazioni che sono parallele alla fisica delle particelle, non per forza collegate. Come per esempio in Formula 1 si sviluppano delle tecnologie che poi magari vengono, dopo un po' di anni, portate sul mercato dell'automobile più normale, diciamo. Anche al CERN, per forza di cose, si devono sviluppare delle tecnologie adatte a svolgere certi esperimenti che poi hanno una caduta sulla vita di tutti i giorni. Vi faccio un esempio su tutti. Touchscreen è stato inventato lì. Ma c'è anche un aspetto molto bello che è la collaborazione. Collaborazione fra paesi, collaborazione fra ricercatori, collaborazioni fra diversi enti e diverse realtà scientifiche dell'Europa e in realtà di tutto il mondo. Questo è un posto che assomiglia come poesia, diciamo, alla Stazione Spaziale Internazionale, dove i confini cominciano a venire un po' meno, le bagarre politiche cominciano a diventare meno importanti per un fine comune. E poi l'ultimo aspetto che non è comunque il meno importante è quello dell'educazione. Al CERN si sviluppano, i ricercatori studiano intere classi future di scienziati.